Ma come facevano le navi a vela che hanno solcato gli oceani per secoli e secoli a non scarrocciare? Avevano la chiglia tonda? Come facevano a mantenere la rotta, visto che non c'era nessuna appendice allo scafo? La risposta è che certo che scarrocciavano, ma siccome c'erano prevalentemente vele quadre che permettevano solamente un'andatura di poppa, lo scarroccio era molto limitato perché la nave poteva andare praticamente solamente con un'andatura di poppa. Fino a che compaiono gli schooner, che sono stati una vera rivoluzione nel campo della navigazione a vela. E vedete, cominciano a comparire queste vele di prua grandi, triangolari, e anche le vele principali hanno sì ancora il picco, ma cominciano a assomigliare a vele moderne e cominciano a comparire le chiglie. Il salto definitivo lo si fa con i J-class, barche splendide che finalmente adottano vele triangolari, moderne, seppure a ferzi ovviamente, e una chiglia molto generosa, quella che oggi chiamiamo long kill, anche se ovviamente, vista la superficie immersa, c'è un grandissimo attrito. In realtà dobbiamo dire che la storia delle appendici inizia molto prima, in Olanda, quando le navi per il trasporto di merci dovevano arrivare in fondali bassi. E quindi adottano quelle che oggi chiamiamo dagger board, cioè delle derive mobili. Dalla long kill si passa presto alla thin kill. Questo avviene quando i materiali lo permettono. Una volta imparato il giochino, poi si estremizza. Questa è una barca di Coppa America delle scorse edizioni, quando ancora c'erano i monoscafi, e vedete che c'è una deriva profonda e un bulbo enorme, ma, come sappiamo, non ci si accontenta mai. E quindi, per incrementare ancora il raddrizzamento di una barca a vela, senza aumentare nel peso, si è cominciato ad adottare le canting kill. In aggiunta alle canting kill, si sono poi cominciato ad adottare i foil. E la combinazione è stata veramente azzeccata, perché queste barche a vela, sostanzialmente da regata, sono solo da regata, hanno una deriva mobile, che aumenta di tanto il momento raddrizzante, e dei foil, che fanno uscire quasi tutto lo scafo dall'acqua. Questa è, per adesso, l'unica imbarcazione, non da regata, ma, diciamo così, dedicata al diporto, che adotta la chiglia e i foil di ultima generazione, quelli, diciamo così, di Coppa America. Infatti, in Coppa America, adesso, e quest'anno, nel 2024, ci sarà l'edizione della Coppa America, le barche non hanno più la deriva, non hanno più la chiglia, hanno solamente foil, che consentono di andare velocissimi e di tenere in equilibrio, anche se molto precario, l'imbarcazione. Va anche citato questo sistema, che consiste nell'avere una sorta di ala, che esce dallo scafo sotto vento, quindi sott'acqua, e crea una certa portanza, aumentando quindi il momento raddrizzante, senza aumentare il peso. In questo momento c'è una sorta di euforia per i foil, e vengono applicati un po' a tutte le imbarcazioni, persino a Winsurf, ma, in realtà, i foil non sono una novità. Questa è una nave da guerra americana, che li adottava già negli anni Sessanta. Come potete vedere, i foil, sia nelle navi militari, sia negli aliscafi, sono stati adottati già da tanto tempo. Inoltre, questi foil vengono oggi molto spesso adottati su barche a motore, a propulsione elettrica. Infine citiamo anche l'Hull Van, che è una sorta di spoiler immerso nell'acqua, che serve a ridurre l'attrito dovuto ai flussi d'uscita a poppa nelle imbarcazioni, ed è, in pratica, studiato per le imbarcazioni dislocanti, non per quelle plananti.